Bene amici, siccome ero in giro a fare una sgambata in bicicletta, quale occasione migliore per testare questo Polar M600 all'aperto? Sì, ma prima di tutto togliamo l'assistenza dalla bici. Ma parliamo dell'orologio, display 240x240 pixel, ovviamente touchscreen quadrato e ha la tecnologia TFD Trans Reflective, ovvero anche sotto la luce del sole, come vedete si vede bene. Tra l'altro la retroilluminazione è dotata di un sensore, quindi non fa l'effetto faro nella notte. Questo pulsante che è personalizzabile può lanciare qualsiasi app, di default lancia quelle relative al fitness, possiamo allenarci o guardare cosa è successo durante la giornata. Se tappiamo su allenamento abbiamo la possibilità di mettere sull'orologio determinati sport, ma che possiamo aumentare, ce ne sono tantissimi sull'applicazione, questo lo vedremo poi in studio. Andiamo sullo sport ciclismo, il batteo cardiaco è stato preso veramente velocemente dal polso, il GPS ci mette un pochino di più, diciamo nell'ordine dei 30 secondi un minuto, ovviamente è compatibile anche con il GLONASS. Ok, GPS ci siamo, clicchiamo e siamo pronti per partire. Ovviamente durante la pedalata il display rimane attivo e ci dà i battiti cardiaci, la distanza, il tempo e la velocità. Ok, mi fermo un attimo così riesco a farvi vedere meglio l'inquadratura, se no sballonzola tutto. Mentre facciamo l'attività vi dicevo rimane sempre attivo il display, possiamo interromperlo da una parte, mentre se facciamo swipe dall'altra abbiamo tante informazioni in più. Ovviamente swipe dall'altro in basso per volendo ascoltare la musica, adesso non sono collegato allo smartphone, eppure se collegassi un auricolare bluetooth al Polar potrei ascoltare la musica grazie a Play Music. E qua abbiamo delle statistiche un pochino più approfondite, quindi distanza, frequenza cardiaca massima, media, la velocità media, la velocità massima raggiunta, l'altitudine massima raggiunta e il dislivello in salita e in discesa, nonché le calorie bruciate. Inoltre le zone in cui il nostro cuore è rimasto con la percentuale e il tempo di permanenza proprio nelle varie zone cardiache. Terminata la sessione di allenamento basta fare uno swipe a destra, mettere in pausa, si può ovviamente riprendere, tenere cliccato lo stop per evitare stop involontari e vediamo come il display ci mostra un riassunto dell'attività appena effettuata. E ci dice anche come siamo andati. Ci dice che ovviamente è stato un allenamento molto blando di recupero e questo lo sapevo anch'io. Però in caso di allenamenti più intensi ci dà dei suggerimenti anche sul recupero. Ovviamente è un Android Wear, quindi collogato con lo smartphone a tutte le applicazioni e funzionalità degli Android Wear in versione 2.0. Vediamo se funzionano. Ok Google, guidami in via Torino. Ragazzi, Maps su Android Wear è veramente numero uno. È partita la navigazione turn by turn, ovviamente per questa funzionalità bisogna avere i dati attivi sullo smartphone. Ma direi che ora è ora di trarre le conclusioni in ufficio. Eccoci in ufficio, in confezione tra l'altro complicatissima da aprire, non c'è praticamente nulla se non l'orologio e il cavo per caricarlo. Lo tolgo, vi racconto un po' come sta il polso. Prima di tutto il purtroppo più grande di questo smartwatch, ma anche sportwatch, è il design. Ragazzi, è veramente a mio parere brutto e soprattutto avendo un cinturino così grande, soprattutto d'estate, il polso tende sempre un po' a sudare. È magnetico, l'aggancio per la ricarica, basta fare così, clac, si attacca qua dietro e si ricarica. Molto velocemente, un'ora e mezza da 0% va al 100%. Tra l'altro, guardate dietro il sensore di battiti, è addirittura 6 led con poi il lettore ottico. Questo fa sì che la misurazione del battito sia molto precisa. È vero che ci si può anche abbinare una fascia cardio, è vero che i picchi, ovvero le diminuzioni rapide, aumenti rapidi della frequenza cardiaca non vengono ben recepiti, ma la frequenza media è veramente molto buona. Però non c'è la misurazione H24. Il cinturino sta ben incastrato perché ha i piccanelli qua nel ferma cinturino per far sì che non si apra. Dicevamo di design, beh, è un po', io lo trovo un po' vecchiotto. Bello il fatto che dalla home page, cliccando qua, si va direttamente a un riassunto di quello che è stato fatto durante la giornata. Vedete, sono al 64% del mio obiettivo. Mi dice che dovrei fare ancora 21 minuti di giochi e 46 minuti di camminata, oltre a stare in piedi per 2 ore e 36, forse un pochino troppo esigente. Pulsante laterale che serve, come su tutti gli Android Wear, a entrare nell'elenco delle applicazioni. Forse il display è vero, leggibile sempre, questo è un plus, ma un pochino piccolino. Però probabilmente tra display piccolino, processore poco energivoro e batteria da 500 mAh, questo Android Wear è probabilmente quello che ha la durata della batteria maggiore in assoluto. Io sono riuscito a farci due giorni e mezzo in utilizzo normale e otto ore in utilizzo GPS continuativo. Nessun altro Android Wear riesce a fare questi risultati. È impermeabile 10 atmosfere e questo consente di andare a monitorare anche il nuoto. Vi faccio vedere che cosa monitora quando selezioniamo l'attività nuoto. La durata, la distanza, vedete qua, la frequenza cardiaca. Probabilmente il lettore di batti funziona anche sott'acqua, però questa è una cosa che io non ho verificato. Interrompiamo questa attività, usciamo, vi faccio vedere le altre e vi faccio vedere quali sono i campi dati delle altre attività. Andiamo qua, andiamo a vedere per esempio la corsa. Ecco, durante la corsa battiti, distanza, ritmo, quindi minuti ogni chilometro fatto e il cronometro. Se facciamo uno swipe a destra, i giri, automatici, possono essere settati nella lunghezza i giri. La media della cadenza è anche qua il battito e qua le informazioni che abbiamo visto anche nell'attività ciclismo. È comunque molto leggero, 63 grammi e ovviamente dotato della propria applicazione, perché oltre a essere uno smartwatch è anche uno sportwatch, compatibile Android Wear, ve l'ho detto in 25 salse, con i vari quadranti, le applicazioni, tutte Android Wear 2.0, ma c'è una cosa in più, ovvero Polar Flow, che è quell'applicazione che consente di andare a concentrare tutto l'universo dei wearable polar e ce ne sono tanti. Prima schermata ci dà quotidianamente che cosa abbiamo fatto quando siamo stati sedentari, quando abbiamo fatto un'attività, quando invece ci siamo mossi, la percentuale dello stato di obiettivo quotidiano e possiamo vedere anche il grafico settimanale di come siamo andati oltre al grafico mensile. Qua abbiamo un feed giornaliero di tutte le attività quotidiane, calorie bruciate, passi fatti, due cose da dire. Calorie bruciate molto fedeli, perché sono fedeli anche al Fitbit che è preciso, lo so perché sto dimagrendo e ingrassando in base alle calorie del Fitbit, invece i passi tende un pochino a sovrastimarli. Altra cosa stranissima, allora vi faccio vedere, feed, se io vado qua nell'attività quotidiana giornaliera, vedo i passi, vedo la distanza, il tempo, vedo anche quanto dormito sono notturno, sono ristoratore, quanto sono ristoratore e quanto sono leggero, ma se poi vado qua nel campo dedicato al sonno, sia se vado nel giorno, sia vado nella settimana, mi indica tutto zero, non so, questo probabilmente è un bug dell'applicazione. Qui abbiamo, diciamo, tutta la settimana con i vari allenamenti che abbiamo fatto e qua sotto eventuali notifiche. Molto interessante questa schermata perché ci consente di aggiungere all'orologio una miriade di sport, guardate quanti sono gli sport che possono essere monitorati con questo orologio, veramente, boh, un centinaio. Sull'orologio ne possiamo installare fino a 20. Ok, l'interfaccia non è bellissima, ma vi faccio vedere l'interfaccia del sito web perché lì abbiamo una funzionalità molto carina. Molto bello il sito web che ci dà un'interfaccia dove possiamo vedere l'allenamento con una sorta di diario, la cronologia degli allenamenti, tra l'altro vi faccio vedere una cosa carina. Entriamo in uno qualsiasi, ovviamente possiamo vedere qua la mappa, se guardiamo qua sotto e scorriamo col mouse possiamo selezionare un intervallo e vedete là in alto vediamo anche il, diciamo, ero io, sì, io che mi muovevo sulla mappa e poi possiamo vedere puntualmente, fare uno zoom su una parte di intervallo e puntualmente batto cardiaco, velocità e altezza. Questo ovviamente in base allo sport. Ma guardate cosa succede se clicchiamo qua su rivivi. Polar Flow ci fa una piccola panoramica, un piccolo filmatino dove ci fa vedere cosa abbiamo fatto, con che tipo di wearable abbiamo fatto perché ovviamente questa interfaccia va a concentrare tutti gli allenamenti fatti e monitorati con i vari wearable di Polar. Ci fa vedere dove siamo partiti, ci fa vedere con, grazie a Street View, la strada che abbiamo fatto e la cosa carina, vedete, mentre andiamo ci dice anche il punto dove abbiamo raggiunto la velocità massima a che altitudine, ci fa vedere qual era il punto e qua i dati proprio relativi a quel punto. Poi ovviamente ci fa vedere tutto il percorso, insomma una cosa carina per rivivere un pochino l'allenamento fatto. Qua abbiamo il feed con il diario delle varie giornate di allenamento o anche di, diciamo, tracking del fitness, l'esplorazione su le varie persone che decidono di rendere pubblici i propri allenamenti e qua progressi, ci fa vedere quanto stiamo migliorando o peggiorando nella, diciamo, mese per mese con anche delle statistiche sui giorni migliori, i passi, le calorie, eccetera, eccetera, eccetera. Qui un'altra schermata sul rapporto dell'allenamento e anche la possibilità di programmare un allenamento. Se andiamo qua nel disclaimer ovviamente ci dice che sono allenamenti standard progettati per assicurarsi di allenarsi correttamente e di evitare sovrallenamenti non è come un personal trainer ma comunque potrebbe aiutare un sedentario come me. Ok, ma direi che è venuto il momento di parlare di cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto. Intanto vi faccio scorrere qua tutte le applicazioni che io ho installato ovviamente è dotato di Wi-Fi mi è piaciuto tanto la funzione feed di allenamento completo e ovviamente c'è anche Google Feed Classico ma diciamo che l'applicazione Polar va molto molto meglio mi è piaciuto il display è vero è piccolo, 1,3 pollici diagonale ma è sempre molto molto ben visibile poi un ottimo calcolo delle calorie bruciate e poi soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più l'autonomia invece non mi è piaciuta la mancanza dell'altoparlante quindi non si possono fare chiamate in viva voce l'applicazione poteva essere un filino più curata ma soprattutto la cosa che non mi è piaciuto non mi è piaciuta è il design veramente bruttarello e un po' anni 80 un design un design di un orologio che non ti porti sempre al polso alla fine magari lo usi lo metti per fare l'allenamento e poi finito l'allenamento lo togli ma allora a quel punto non mi compro uno smartwatch ma mi compro uno sportwatch però la cosa in generale che mi è piaciuta è che questo Polar M600 va un po' a unire i due mondi ed è l'unico che riesce a fare questo quanto costa? io l'ho pagato poco poco 217 ma perché l'ho comprato al Prime Day con un'offerta su Amazon in realtà il suo prezzo di destino è 349 in offerta online intorno ai 299 euro un prezzo che per le caratteristiche direi che ci sta insomma forse è un orologio che vuole fare tutto fa benino tutto ma ripeto bruttino peccato un saluto da